In questo progetto partecipano protezione civile del Vallo di Diano, del Tanagro, quindi regione Campania, ma anche della regione Basilicata. Con i colleghi volontari di Vietri di Potenza abbiamo costituito questa rete in modo tale da portare avanti i principi fondamentali della protezione civile e di farli conoscere meglio i nostri cittadini e quindi di allargare la veduta su queste tematiche che sono molto importanti. Quali saranno le novità di questa intesa tra le varie associazioni di protezione civile? Voi potrete intervenire in terra lucana e viceversa? Dobbiamo spiegare prima di tutto che i regolamenti regionali rimarranno, però ci sarà uno scambio di informazioni, di collaborazioni e anche di uomini, possiamo dirlo, tra le associazioni. Diciamo che il network che sta nascendo fino ad adesso era informale, cioè comunque tra protezione civile del Vallo di Diano, con sorelle Gopi e associazioni volontari di Vietri di Potenza c'è stato sempre una collaborazione, uno scambio di idee e di informazioni, però adesso il network è ufficiale grazie a questo progetto e noi faremo degli eventi in tutto il territorio, quindi un territorio abbastanza ampio che coinvolge otto comuni del Cilento, del Tanagro e del Vallo di Diano, ma quindi poi si affaccia alla Basilicata. Naturalmente il rispetto delle regole è una cosa fondamentale, una cosa che va chiarita subito, cioè nel senso che comunque noi facciamo parte della Campania, in Campania rimaneremo, però questo network ha servizio di due regioni, di due regioni che sono vicine e che hanno bisogno di collaborazione per andare avanti. Ecco, un'opportunità anche per ricevere più fondi dallo Stato o dagli enti, insomma, sovracomunali, questa intesa, questo insieme di associazioni. Diciamo che è un modo in più per avere delle possibilità nuove, unendo le professionalità e anche i volontari, è normale che si può accedere a più bandi e che vengono emanati da vari enti. In questo caso è stato un progetto che prevedeva, insomma, la partecipazione di tutte le regioni del Sud Italia e quindi la collaborazione tra la regione Basilicata e la regione Campania ha fatto in modo che questo progetto fosse valido e quindi portando avanti tutte le tematiche principali della protezione civile.